Campagna vaccinale, lo stop ad AstraZeneca rallenta il piano, Zaya teniamo alta la guardia contro il virus. Caso AstraZeneca nell'area berica, sospese 1900 vaccinazioni in via precauzionale. Ristoranti in clausura, gioformaggio, messaggio al governo nel post-covid non vengano fermati gli aiuti. Chiampo, il centro vicentino con meno contagiati, un record dopo il boom di malati della seconda ondata. Riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, richiesto maxi finanziamento allo Stato per 45 milioni. Arzignano, restauro delle mura via Scaligeri, potrebbe riaprire già per Pasqua. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Vicenza. Apriamo con il consueto punto della situazione sui dati covid regionali, quelli che arrivano da azienda zero. I dati che ci interessano sono ovviamente relativi al totale dei nuovi casi positivi, che sono 949 da questa mattina, mentre gli attualmente positivi totali sono 35 mila 832. Vediamo ora i ricoveri, altro dato importante che purtroppo registra 61 nuovi ingressi in ospedale non in terapia intensiva e 6 nuovi casi invece in terapia intensiva. Infine ci sono 15 nuovi decessi da questa mattina. Ma insomma la notizia del giorno è quella della campagna vaccinale con lo stop ad AstraZeneca che ha segnato un rallentamento delle vaccinazioni in Veneto. Variante inglese, un covid allo specchio, capace di mutare, cambiare marcia, accelerare. Il trend dei contagi è in crescita e nella lotta all'epidemia bisogna tener conto che la velocità con cui il virus si diffonde è nettamente aumentata. È una preoccupazione che portiamo avanti, da un lato con l'appello ai cittadini di continuare a mettersi in sicurezza con la mascherina, l'igiene delle mani, evitare assembramenti. E dall'altro ovviamente con la necessità di predisporre, poi ne parlerà il dottor Flor, predisporre anche cure ospedaliere e organizzazione ospedaliera atta a rispondere a questa emergenza. Non siamo ancora nella fase di dover porci la questione di ridurre attività programmata, ospedaliera, ma sicuramente siamo nella condizione di prendere atto che si riattivano i covid point, i covid hospital. Nella guerra il covid è lo stop. Ad AstraZeneca, considerato il vaccino prevalente su cui è stato costruito l'accordo regionale Veneto con i medici di base, rischia di rivoluzionare completamente la campagna di immunizzazione. A ore arriveranno nuove dosi di Pfizer, mentre per Moderna bisognerà aspettare la prossima settimana. In ogni caso si tratta di rifornimenti che, senza AstraZeneca, non permetteranno l'accelerazione prevista e di tagliare l'obiettivo di 51.000 dosi al giorno. Nell'ultimo periodo, al contrario, c'è stato un rallentamento. Noi da quattro giorni siamo in lieve calo di vaccinazioni. Sono quattro giorni che vacciniamo ogni giorno un po' meno perché dobbiamo contingentare molto di più i vaccini Pfizer e Moderna sui richiami e non possiamo puntare su Astra. E a proposito di vaccini, perplessità, dubbi, ma c'è anche chi non ha preclusioni. Sono i vicentini che in queste ore sono stati chiamati in fiera a Vicenza per la seconda o la prima dose di Pfizer. Penso che tutti hanno un po' di paura perché non si sa cosa c'è dentro. Lei è contento di non aver fatto AstraZeneca allora? No, io sono contento di non averla fatta. È preoccupato un po'? No, perché ho fatto Pfizer. E quindi è contento di aver fatto Pfizer? Sì. È il richiamo questo? È il richiamo. Pfizer? Pfizer, credo di sì. È contento di aver fatto Pfizer e non AstraZeneca? Beh, guardi, non avrei avuto problemi neanche con quello. È un rischio che si deve correre? È un rischio che bisogna purtroppo correre, se no non si esce assolutamente. Bisogna farlo, bisogna farlo, è meglio farlo. Ma senta, ma adesso tutta questa vicenda di AstraZeneca? Speriamo in bene. La seconda dose? Pfizer. Eh sì, è proprio... No, AstraZeneca. No, no, che altro. È contento che non fare AstraZeneca? Sì, proprio questa AstraZeneca non l'hai fatta. Ha paura? Dopo quello che ha sentito è più preoccupato? Eh, più preoccupato che il resto. Io ho fiducia, però bisogna che ci accertiamo se tutto va bene. Sa che vaccino gli hanno dato? Della Pfizer, sì. Pfizer, e allora lei è contento che ha fatto Pfizer in un'AstraZeneca? Bah, ma a me se mi faceva anche a quello, lo accettavo a fine. Bisogna aspettare e vedere cosa trovano e la motivazione di questo stop, insomma, quindi è giusto. Ma lei lo farebbe lo stesso? Eh sì, sinceramente sì. Io adesso in questo momento farei qualsiasi tipo di vaccino pur di uscirne. E sul caso AstraZeneca, nell'Ul Sotto, sono state sospese al momento in via precauzionale 1900 vaccinazioni. Nessun effetto avverso comunque segnalato per il momento. Abbiamo sospeso le sedute vaccinali di AstraZeneca. Queste sono le sedute per i prossimi giorni. Sospensione temporanea e precauzionale fino a domenica in attesa che EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, faccia tutti i riscontri scientifici del caso, ovvero a verificare il nesso causa-effetto sui casi dei soggetti deceduti e quello relativo all'incidenza degli effetti tromboembolici. Così l'Ul Sotto ha provveduto in queste ore ad informare tutti i soggetti che erano prenotati in questa settimana. Complessivamente erano previsti in 1900 che la loro vaccinazione era sospesa. Ma la direttrice del SISP, Servizio Igiene e Salute Pubblica, rassicura. Abbiamo un attimo rallentato ma confidiamo che nel giro di pochi giorni le cose vengano risolte e di ripartire. Moltissime intanto le chiamate di cittadini che avendo fatto la prima dose di AstraZeneca chiedono informazioni sul richiamo. Al momento manteniamo l'appuntamento per la seconda dose che essendo anche molto in là nel tempo, ricordo a 12 settimane dalla prima, quindi fra fine maggio e primi di giugno, può essere al momento mantenuta. Ad oggi sono stati 6.424 i soggetti vaccinati con AstraZeneca e a tutti è stato dato il documento con cui è specificato il tipo di vaccino e l'otto. In caso insorgessero problemi si devono rivolgere al medico di base. Al momento però noi non abbiamo segnalazioni di effetti particolari oltre a quelli, ripeto, già attesi e riportati anche nel foglietto illustrativo. E in tema di eventuali dosi di vaccino anticovid rimaste inutilizzate a fine giornata, anche l'Ulss 8 Berica adotta le linee guida ministeriali e regionali, creando delle liste di nominativi che potranno essere contattati all'ultimo momento in caso di disponibilità. Nominativi individuati esclusivamente tra le categorie prioritarie come personale sanitario e soggetti fragili che siano stati impossibilitati a effettuarlo in precedenza. Abbiamo visto i dati regionali, stiamo parlando di Ulss 8, allora un'occhiata anche all'epidemia nell'area Berica con le ultime 24 ore che hanno visto effettuati 4.417 tamponi, di cui 139 positivi, vale a dire il 3,14%. Da venerdì a oggi ci sono stati 20 nuovi ricoveri. Nell'ultima giornata si registra un decesso, mentre i guariti sono 106. E adesso cambiamo argomento, perché i locali danneggiati dalle chiusure della zona rossa vanno sostenuti. Lo afferma in un messaggio al governo il consigliere regionale Joe Formaggio. In Germania hanno chiuso tutto, però non ha dato i soldi. In Italia, se non ci sono i soldi, non chiudere tutto. Se l'Italia non può permetterselo, il governo non chiuda tutto. E lo giacuse di Joe Formaggio, consigliere regionale veneto, ex sindaco sceriffo di Albetone e, per tradizione familiare, ristoratore del Basso Vicentino. Lingua tagliente, le sue parole sono sciabolate con cui colpisce le scelte politiche che hanno imposto la clausura ai locali. Io ho colleghi che hanno preso 6 euro di ristoro, una presa per i fondelli. Neanche il coperto. Neanche il coperto, bravo. E tante attività chiuderanno, non apriranno più. Gente che si è fatto mutuo per poter sopravvivere quest'anno. E' bruttissimo, perché il mutuo si fa per fare il locale nuovo, non per pagare i rifiuti che non hai usato, per pagare le bollette che il fisso in un ristorante è alto. Non è possibile, non è possibile. Attorno ai locali c'è un indotto, ci sono famiglie che vivono di stipendi, ci sono lavoratori che oggi restano a casa. Ci sono attività che non riapriranno più, altre invece stanno resistendo. Oggi Gio Formaggio si rivolge al governo e ai sindaci perché ristoranti, bar e negozi vengano aiutati a rimettersi in piedi. Zero spese per i plateatici, di tirare via totalmente la tassa sui rifiuti, insomma andare incontro perché quello che mi spaventa ancora più del Covid è che appena finirà il Covid gli amministratori non si ricorderanno più che c'è stato un anno, un anno e mezzo di chiusura totale che ha fatto indebitare i ristoratori baristi. E cominciano a rimettere i plateatici, rimettere tutti i balzelli che se ti trovo dieci minuti dopo ti do la multa. Quindi dobbiamo ricordarci di questo periodo per essere propositivi e aiutare i commercianti anche quando non ci sarà più il Covid perché adesso hanno veramente sofferto. Ora parliamo della situazione paradossale che si vive nella Valle del Chiampo dove dopo il boom di contagi nella seconda andata, ora in zona rossa il numero di contagi è il più basso in regione. Oggi siamo proprio in questo giorno a 35 a 35 casi, quindi una crescita c'è anche qui ma una crescita più moderata rispetto alle altre zone della nostra provincia. Questo perché probabilmente si è avuto una immunizzazione di gregge derivante dal fatto che qui gran parte dei cittadini hanno avuto il Covid di fatto. Solo qualche mese fa la Valle del Chiampo contava 300 casi e il primo cittadino, sebbene in zona gialla nel tentativo di contenere il contagio, aveva messo in atto misure più restrittive per i suoi cittadini. Quasi tutte le famiglie avevano almeno un contagiato, se non più contagiati appunto tra le appartenenti famiglie e questo è stato un momento veramente duro per la nostra vallata e lì eravamo in zona gialla. Una situazione che lascia smarriti gli abitanti, un paradosso dettato dal fatto che la fascia rossa è stata stabilita con un DPCM ma che il sindaco vuole vedere come uno strumento di prevenzione. Certo, per le famiglie la situazione è molto difficile, soprattutto per la cessazione dei servizi scolastici e per i servizi dell'infanzia. Questo è un dramma veramente importante sul quale occorrerebbe ancora ben riflettere. Oggi rispetto ad un anno fa ci sono i vaccini, la voglia di tornare a vivere e riprogrammare grandi eventi c'è ma ancora non basta risollevare umore ed economia di un territorio. Dopo un anno ritrovarci nella stessa situazione è ovviamente difficile, duro, difficile da accettare più che altro. Cambiamo argomento, parliamo del patrimonio edilizio pubblico degradato da recuperare. Vicenza per questo chiede aiuto allo Stato. Vicenza si candida a tre maxi finanziamenti statali di 15 milioni di euro ciascuno al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per riqualificare il tessuto edilizio di aree urbane strategiche degradate. Stamattina proprio per l'importanza del tema è stata convocata una giunta straordinaria dove abbiamo licenziato la partecipazione a questo bando allegando dei progetti di massima sulle nostre idee e su questo speriamo di ottenere un risultato positivo. Tra i grandi temi di rigenerazione urbana che comprendono l'area della ex viera ai giardini salvi lo stabile dell'ex macello nei pressi di piazza Matteotti è il villaggio Giuliano a Campedello, un complesso degli anni 50 che ospita un centinaio di alloggi sociali. Puntiamo al massimo risultato di raggiungere l'obiettivo per i tre progetti. Sarebbe già importante raggiungerne uno. In particolare all'interno di questi ci sono degli immobili come l'ex macello che oggi è in degrado, in abbandono e in stato anche di forte instabilità statica e quindi avrebbe bisogno di un intervento. Oggi è stato ufficialmente avviato l'iter burocratico. Il Ministero si riserva alcuni mesi per valutare le proposte e rendere noto se e quali progetti finanziare entro la fine dell'anno. Quali le priorità sarebbero da rispettare? Sarebbe importante ottenere sicuramente tra le varie operazioni che abbiamo indicato sostegno economico per mettere a posto gli immobili destinati ad ERP. Quella della difficoltà abitative, della crisi abitativa delle famiglie è un fatto noto. La crisi sta aumentando queste esigenze. Molto si legge anche in ordine agli sfratti che vengono avanti rispetto a questa crisi che stiamo vivendo. Quindi sarebbe importante dare risposte abitative alle famiglie e alle persone in difficoltà. La cronaca fatture per una compravendita inesistente, imprenditrice immobiliare malense e altre due rappresentanti legali, nei guai. Malo, emissione di fatture per una compravendita immobiliare fittizia al solo scappo di sottrarre la disponibilità finanziaria di oltre 190 mila euro al credito d'imposta. L'imprenditrice malense di tre società e due legali rappresentanti di uno delle ditte in liquidazione sono stati indagati dalla Guardia di Finanza di Schio per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolente e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Tra i denunciati è anche un dottore commercialista consulente fiscale di tre società immobiliari con sede a Vicenza prestato sia la domiciliazione della sede legale di una delle attività. I finanzieri hanno chiesto il sequestro preventivo per 99 mila euro. Montecchio Maggiore vendeva sostanze cannabinoidi con elevato principio attivo, denunciato il titolare dell'esercizio commerciale. Negozio di Montecchio Maggiore nei guai. I funzionari dell'agenzia delle dogane e dei monopoli hanno sequestrato prodotti liquidi da inalazione, articoli contenenti in fluorescenza di cannabinoidi. Merce che era posta in venta sia nel distributore automatico all'esterno della vetrina, sia all'interno dell'esercizio commerciale, dove peraltro campeggiava un cartello che specificava esattamente il tipo di prodotto, peraltro non commercializzabile, secondo le norme vigenti. Il titolare è stato denunciato per produzione, traffico e detenzione di illeciti sostanze stupefacenti o psicotrope e per falsa dichiarazione sotto certificazione. Avviate le pratiche anche per una revoca della licenza. Ed ora parliamo delle mura del castello di Arzignano, che saranno riparate e autorizzato infatti l'avvio dei lavori. Finalmente, nei prossimi giorni, partiranno i lavori di consolidamento delle mura di castello, in particolar modo le mura che guardano su via Scaligeri. La strada era stata chiusa a scopo precauzionale in autunno, quando a seguito dei lavori di pulizia della vegetazione lungo le mura si era riscontrato il pericolo di crollo di quella parte dell'antica cinta muraria, a danneggiare il castello e il violento fortunale del 29 agosto, che aveva scosso così gravemente la struttura da minacciare la possibile caduta di materiale sulla sede stradale e su eventuali malcapitati. Ci scusiamo per il ritardo e per l'eventuale disagio, ma le mura sono sottoposte a vincolo storico-paesaggistico. Quindi abbiamo dovuto attendere, per l'inizio dell'intervento dei lavori, abbiamo dovuto attendere il parere della soprintendenza, che è arrivato e quindi adesso partiremo con i lavori di ripristina. Sì, in questi giorni è stato effettuato un sopralluogo dalla vita esecutrice dei lavori e dai tecnici comunali. Nei prossimi 15 giorni sarà possibile intervenire. Poi successivamente riteniamo di riportare a aprire alla viabilità all'inizio di aprile, prima del periodo pasquale. E ora vi ricordiamo i nostri appuntamenti. Dopo il telegiornale Sport in Casa, condotto da Alex Iuliano, ospite della puntata Enrico Rossi, difensore dell'Arzignano, per parlare del campionato di Serie D. E poi alle 21.15, naturalmente, l'appuntamento con Focus, l'approfondimento con il nostro direttore Luigi Bacialli. I suoi ospiti sono Maurizio Cattaneo, Alberto De Franceschi, Andrea Gregori, Francesco Manfio, Viviane Moro, Umberto Tirelli, Alberto Villanova, Roberto Volpe e Giovanni Zorzi. Quindi appuntamento con Focus, l'approfondimento, sull'attualità. È tutto per quanto riguarda l'informazione di Vicenza. Vi ringrazio per averci seguito. Vi lascio alle previsioni del tempo. L'Olato, da oltre 40 anni, centro specializzato nella produzione di plantari e calzature su misura, busti, tutori e protesi di arto. Benvenuti al Meteo. Tempo ancora in genere buono sul nostro territorio, con aria fredda artica che continuerà ad affluire al nord-est. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 17 marzo. Sul Veneto la nostra grafica ci mostra un tempo stabile. Avremo un ampio soleggiamento, interrotto solamente dal transito di qualche nube, ma in un contesto che continuerà comunque ad essere sempre asciutto. Venti ancora localmente tesi. Temperature minime in lieve calo, comprese tra meno 3 e 4 gradi. Massime invece tra i 10 e i 13 gradi all'incirca. Vediamo ora come sarà la previsione per Vicenza. In città ma anche in provincia nessuna novità di rilievo. Anche qui ci attende una bella giornata di sole, senza piogge degne di nota e con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento al pomeriggio, ma del tutto innocuo. Dal Meteo di Rete Veneta per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Olato, ortopedia e sanitaria, vasta gamma di ausili e soluzioni personalizzate. A Vicenza, via Legione Gallieno di fronte all'Istituto Rossi, ad Asiago, Bassano del Grappa e Montebelluna. L'Olato, al servizio del tuo benessere.